Per contribuire alla formazione e al rafforzamento della coscienza civile e democratica dei giovani, come ogni anno l'Associazione Nazionale Figli Caduti e Dispersi in Guerra ricorda con una testimonianza i soldati che non sono più tornati nelle loro case dopo le guerre. Quest'anno il Comitato di Chieti dell'Associazione, nel centesimo anniversario dell'Istituzione del Milite Gnoto, ha promosso la realizzazione di un calendario la cui realizzazione è stata opera degli studenti della scuola secondaria di primo grado Vincenzo Antonelli di Chieti. 70 ragazzi che nonostante le difficoltà della pandemia si sono impegnati a ricostruire le vicende narrate nel calendario che racconta da come scoppiò la prima guerra mondiale fino alla scelta del corpo del Milite Gnoto, un volto senza nome che rappresenta tutti i caduti e dispersi in guerra. È un'azione sia di valorizzazione del percorso storico ma anche di una presa di coscienza anche da parte dei ragazzi di quanto possa servire l'esempio del passato per poi costruire un futuro possibilmente migliori considerando anche la situazione contingente. Mi faccio fare i complimenti sinceri a chi ha avuto questa idea, quindi all'Associazione e soprattutto alla scuola, alle scuole, alle classi che hanno aderito a questa iniziativa con grande entusiasmo perché vede abbinare disegni, poesie, tutte scritte con il cuore dai ragazzi non è semplice perché vuol dire che sono state toccate da parte delle professoresse a cui rivolgo ulteriori complimenti, sono state toccate delle corde particolari nei ragazzi, quindi hanno suscitato l'interesse, è vero, ma anche qualcosa di più dell'interesse e quindi si è visto, onore e merito davvero a questa bella iniziativa.